Grazie Presidente, così come descritto nel testo della mozione a seguito dei lavori della stessa relativamente al mandato che è stato dato per poter avviare tutti gli studi di fattibilità e quindi tutte le attività progettuali per il tram della musica da una parte e la rimessa in piedi del lavoro dell'amministrazione che ricordo rispetto al termini Vaticano Aurelio, il famoso tram TVA che attraversa tutto il centro storico verso il Vaticano, un lavoro che era già incardinato da parte di questa amministrazione prima del giubileo del 2000, è chiaro che si rende necessario dotare la città comunque di un'infrastruttura di deposito che sia funzionale all'esercizio di queste due linee, per cui il mandato è molto semplice, si dà mandato alla Giunta di fare tutte le attività per poter utilizzare quello che comunque era il vecchio deposito di piazza Bainzizza. Grazie